Previsioni per martedì 4 luglio. Cielo irregolarmente nuvoloso con diminuzione della copertura dalla serata. Rovesci o temporali sparsi localmente intensi lungo la fascia costiera e primo collinare in esaurimento dalla tarda mattinata e fino al pomeriggio. Temperature in diminuzione nei valori massimi, venti di brezza tesa, mare poco mosso. Grazie per la visione!